Purtroppo c'è un altro esodo in corso dal nord verso la Puglia. 3.000 persone dal 12 marzo si sono autosegnalate al sito della regione, si sono poste in auto quarantena. Stiamo valutando se chiedere anche ai loro familiari, anzi sarebbe opportuno che anche i loro familiari non uscissero di casa e si ponessero in quarantena. Dal 29 febbraio ad oggi sono 16.545 i pugliesi che si sono autosegnalati come tornati a casa dalle regioni del nord interessate all'epidemia. Ovviamente un sovraccarico di questo genere del sistema sanitario pugliese sarà difficilissimo da gestire.